La vita è combattuta quella tra Toro e Genoa, non certo come quella al Cloroformio, Tracchievo e Bologna. A 90 minuti dal termine del campionato il Toro viene agganciato dai Felsieri, ma i giocatori di Papadopolo sono in vantaggio nella classifica Vulsa. Dunque i camolese boys impegnati domenica nell'Olimpico giallorosso per salvarsi dovranno terminare la stagione davanti al Bologna che ospita il Catania. E poi il Toro ha disputato un'eccellente partita contro il Genoa, anche se la sfortuna ha inciso decisamente sull'esito del match. Al 12esimo Stellone scattando su una palla invitante si procura un guaio muscolare e deve lasciare il posto a Ignazio Abate. Un minuto dopo Colombo viene affossato nell'area genovana da Mesto, ma Saccani non concede il penalty che sia a velocità normale che alla replay sembra sacrosanto. Al 21esimo Zemaili conquista capabilmente palla e innesca Capitano Rosina il cui diagonale si vila a pochi centimetri dal palo. Matteo Sereni si oppone di piedi alla stafilata di Tiago Motta, poco dopo Pisano entra in contatto con Marco Rossi e Saccani concede il penalty che Milito trasforma. Ancora Matteo Sereni si oppone Milito, ma il paese giocato è imminente ed è firmato da tre difensori. Cross di Robin, sponda di testa di Ogbonna e Franceschini, sigla in gol del meritatissimo 1-1. Alla 45esimo Matteo Sereni si oppone, ancora Tiago Motta e il secondo tempo inizia subito con due gol. Prima la posizione di Olivera che però nasce da un fallo molto dubbio. Poi lo splendido 2-2 siglato da Rolando Bianchi che prima gira Marco Rossi e poi segna con questa splendida palombella. E il nono gol in campionato di Rolando. Posizione di Milito, Matteo Sereni salva. Poi il torsio ha più volte il vantaggio. Alla diciottesima, splendida percussione di Colombo. Invito a Parbianchi colpisce benissimo di piatto, ma Rubinio nega Rolando la gioia dell'oropietta. Al 25esimo, altra fantastica penetrazione, stavolta di capitana Rosina che cerca il primo palo, ma Rubinio salva ancora in angolo. Entra Ventola al posto di Franceschini, Colombo si abbassa. Proprio Ventola va vicinissimo al tra due. Lanciato in uno spazio, Ventola salta due versari, ma Rubinio devia il tiro in difensore Genoano. Salva, a pochi centimetri dalla linea. Il torsio ha ancora una chance per vincere, ma la conclusione del capitano termina lato. Allora ci pensa Milito a fissare il tra due finale per il Genoa. La giornata negativa si chiude con l'espulsione di Ignazio Bari.